Dal palco di Gallipoli con il Radio Norba Cornetto, battiti live! Degli ospiti eccezionali! Staff! Topic! Damante! The Colors! Car Brave! Anna Mena! Rocco Ant! Anna! Follia! Evi K! Alex! Francesca Michelin! Michele Bravi! Arcomi! La rappresentante di lista! H7! Caima! Gabri Ponte! Noemi! Dargen D'Amico! Lazza! Alvaro Soler! Elodie! Tananai! Mara Sattei! E... Vete! Radio Norba Cornetto, battiti live! Martedì, in prima serata, su Italia 1!